signori buongiorno e bentornati sul canale del master k io sono il master k il vostro ospite su questo canale torna finalmente la rubrica del d20 che se non sbaglio l'avevamo lasciato a giugno grossomodo comunque negli ultimi due anni con la rubrica abbiamo toccato credo tutti i punti fondamentali del regolamento della d20 system srd 3.x in realtà diciamo 3.5 ma anche alcune cose della 3.0 non abbiamo toccato tutto perché in realtà è piena di sotto regole ma sono cose molto situazionali diciamo però che tutto quello che serve per giocare oramai l'abbiamo detto e quindi è arrivato finalmente il momento di passare alle cose interessanti e andare a vedere quali sono le regole per chi deve masterare una quest nel d20 system partendo da questo video e per i prossimi due o tre video adesso devo vedere andremo a parlare degli elementi basilari cioè gli incontri e il calcolo del grado di sfida poi da lì andremo avanti sul come si creano i mostri come si gestiscono le situazioni e tutto quello che riguarda il lavoro basilare di quello che deve fare un master del d20 system anche perché immagino che se voi seguite un canale che parla di come si mastera è esattamente questo che stavate aspettando quindi cominciamo subito questa settimana andando a parlare del concetto di incontro nel d20 system quando si parla di incontro si intende una qualunque situazione in cui i personaggi debbano interagire con l'ambiente o con i png in pratica ogni volta che i personaggi non stanno parlando tra di loro o agendo liberamente senza bisogno che il master regolamenti la situazione quello è un incontro a volte viene fatta una distinzione tra vari tipi di incontro se i personaggi debbano picchiarsi con un mostro quello un incontro di combattimento se i personaggi debbano mercanteggiare accordarsi con un png quello un incontro sociale ma nella pratica in realtà il d20 system non gestisce le situazioni con regole diverse quindi la distinzione tra un tipo di incontro un'altra è una cosa puramente semantica considerate anche che un incontro che il master va previsto un incontro di combattimento i giocatori incontrano un gruppo di orchi debbono combattere potrebbe risolversi con i personaggi che parlamentano con gli orchi per convincerli ad arrendersi trasformando in un incontro sociale o il party che per qualche motivo non riesce a disinnescare una trappola deve andare a cercare un metodo alternativo e quindi deve ragionarci per girarla facendo diventare quell'incontro un enigma o deve andare a cercare di convincere qualcun altro a venire a disinnescarla per loro facendolo diventare un incontro sociale nella realtà però finché si resta nel d20 system tutte queste situazioni verranno risolte facendo sempre riferimento alla regola fondamentale cioè da ora 20 più modificatori vari contro la difficoltà dell'incontro andare a dividere i tipi di incontro in base a quello che vi succede alla fine qualcosa lascia il tempo che trova allo stesso modo nel d20 system indipendentemente da cosa succede all'interno di un incontro a ogni incontro è associato un descrittore fondamentale il grado di sfida normalmente abbreviato in gs o cr dall'originale inglese challenge rating questo numero in linea generale rappresenta quanto è difficile l'incontro più il grado di sfida è alto più l'incontro sarà impegnativo non fate mai l'errore di banalizzare il grado di sfida perché nel d20 system è probabilmente il valore con l'importanza maggiore dell'intero sistema dal grado di sfida infatti dipendono le due variabili fondamentali che hanno gli incontri cioè la quantità di esperienza e la quantità di tesoro che danno ai gioventurieri anche in questo caso maggiore sarà il grado di sfida dell'incontro maggiore sarà l'esperienza il tesoro che i personaggi guadagneranno se lo riescono a superare ora quanta esperienza e quanto tesoro nel dettaglio i giocatori comunque i loro personaggi vanno a incamerare superato un determinato grado di sfida dipende dal sistema nello specifico che state utilizzando e il d20 system ha così tanti sottosistemi e sotto ambientazioni che avrebbe poco senso andarli a discutere tutti uno per uno proprio per fare un esempio veloce prendiamo dungeons and dragon 3.5 e pathfinder che probabilmente sono i due giochi che hanno poi più sottogiochi a loro volta all'interno del sistema di 20 allora per quanto riguarda a parità di grado di sfida in pathfinder l'esperienza è leggermente superiore ma la quantità proprio di monete d'oro e il tesoro è leggermente inferiore rispetto a dungeons and dragon questo principalmente perché in dungeons and dragon la quantità di esperienza e tesoro dipende dal livello relativo tra il livello medio del gruppo i personaggi e l'incontro mentre in pathfinder è un valore fisso a ogni grado di sfida corrisponde un determinato valore di esperienza indipendentemente da qual è il livello dei personaggi in termini pratici però quali siano esattamente questi valori a poca importanza l'importante che rimangano coerenti tra di loro all'interno della vostra campagna indipendentemente da quali siano ogni volta che gli avventurieri superano un incontro vanno a guadagnare un potenziale di esperienza di tesoro qui i termini tornano a essere importanti nonostante si dica sempre in maniera sbrigativa che quando i personaggi uccidono un mostro guadagnano esperienza e tesoro nella realtà un ragionamento del genere sarebbe molto più indicato per un videogioco che per un gioco di ruolo e sempre almeno sarebbe sempre meglio esprimere la cosa come ogni volta che i personaggi superano un incontro guadagnano un potenziale di esperienza e tesoro prima di tutto uccidere un nemico non vuol dire necessariamente portare a termine con successo l'incontro ogni incontro rappresenta qualche tipo di problema per i parti tecnicamente viene chiamato il conflitto l'incontro è portato a termine con successo quando i giocatori e di conseguenza i loro personaggi sono riusciti a risolvere questo problema cioè a risolvere il conflitto se i giocatori devono entrare nel dungeon ma l'ingresso del dungeon è difeso da un gigante i giocatori porteranno a termine positivamente l'incontro quando riusciranno a entrare nel dungeon non quando uccideranno il gigante poi il gigante può essere ucciso può essere messo in fuga può essere corrotto può essere convinto ma in realtà il problema che gli avventurieri devono risolvere è quello dell'ingresso paradossalmente gli avventurieri che uccidono il gigante potrebbero far crollare il cadavere davanti l'ingresso bloccandolo e rendendo più difficile portare a termine l'incontro allo stesso modo esistono casi in cui uccidere il png non avrebbe proprio senso per portare a termine l'incontro se gli eroi devono farsi dare delle informazioni dalla sfinge e la sfinge si rifiuta di fornire queste informazioni se non viene pagata uccidere la sfinge sicuramente non farà avere le informazioni di personaggi anzi gli farà fallire automaticamente perché adesso non hanno più modo per sapere quelle cose ma ovviamente questo non deve essere un modo per frustrare i giocatori o per costringerli a usare forme di pensiero laterale anche quando non è necessario probabilmente nella maggior parte dei casi l'incontro sarà formato da dei png ostili che vogliono bloccare in qualche modo i giocatori e uccidere quei png sarà la cosa più funzionale per superare l'incontro dopo tutto un png morto smette di dare fastidio l'importante che quando masterate ricordate sempre che per portare a termine un incontro non è tanto importante cosa i giocatori e i loro personaggi facciano per portarlo a termine ma il risultato finale che ottengono se quel risultato risolve il problema posto all'incontro l'incontro è superato altrimenti non è superato e quindi non guadagneranno esperienza tesoro quello che è si parla anche sempre di potenziale di esperienza e di potenziale di tesoro ne abbiamo già parlato l'anno scorso con il video sul ciclo del tesoro durante il mese del tesoro ve lo linko qua sopra andatevelo a recuperare ma in linea di massima nel d20 system esperienza e tesoro sono due variabili che fanno parte della stessa equazione riassumendo molto brevemente però in pratica non necessariamente ogni incontro deve andare a generare per forza un tesoro il master potrebbe benissimo decidere di fare una serie di incontri e poi dare il tesoro tutto insieme alla fine quando viene sconfitto il boss finale o quello che è o di distribuire il tesoro prima e poi fare incontri senza distribuire tesoro in realtà non cambia nulla il livello di tesoro dipende dal livello del personaggio l'importante è che quando il personaggio passa di livello grosso modo abbia un livello di tesoro comparabile al livello previsto per quel livello del gioco ovviamente la stessa cosa vale per l'esperienza anzi normalmente l'esperienza non viene distribuita dopo ogni singolo incontro superato ma viene distribuita alla fine di una serie di incontri che formano una quest o un intero arco narrativo questo in realtà viene fatto per semplificazione normalmente il master non sta neanche a distribuire esperienza volta per volta una volta che i giocatori hanno guadagnato abbastanza esperienza per passare di livello semplicemente li avverte che il loro livello è salito che la prossima settimana tornate con i personaggi con un livello in più questo è proprio lo standard del gioco la distribuzione dell'esperienza rispetto agli incontri e poi anche qualcosa che va a influenzare pesantemente come vengono costruiti gli archi narrativi delle quest di 20 system però è un discorso lungo e ne parleremo poi in seguito in una serie di video dedicate non voglio anticipare troppo diciamo che per questo video è tutto oramai dovrebbe essere chiaro sia cos'è un incontro sia cos'è il grado di sfida ripartiremo tra due settimane andando a vedere come si calcola il grado di sfida almeno in teoria poi nella pratica le cose sono un po' diverse ma arriveremo con calma anche a quello ovviamente se avete ancora domande dubbi non fatevi problemi a scrivere nei commenti qua sotto e mi piacerebbe sapere anche da voi come voi gestite i vostri incontri come vi regolamentate se queste cose erano già sapute o meno come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi i prossimi video schiacciate il tasto della campanella in modo da attivare le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo al prossimo video ciao